Continua l'impegno legale nell'affermazione dei principi che vanno verso ciò che si trova scritto in tutte le aule dei tribunali, che la legge è uguale per tutti da parte dell'Associazione delle Radio e TV Locali della Rea, con in destra il Presidente e l'ingegnere Antonio Diomede, verso le decisioni adottate dal Ministero dello Filippo Economico di destinare i soldi per i ristori dovuti alla pandemia del Covid-19, ben 50 milioni di euro erogati solo alle emittenti televisive più grosse, discriminando le altre TV e radio locali che in periodo di piena pandemia hanno ugualmente informato il proprio territorio di quanto accadeva senza nessuna limitazione, anzi con un impegno sempre più continuo e massiccio, documentando dal vivo quanto succedeva in pieno Covid-19, nonostante le zone rosse con i rischi del caso. A tal riguardo, la Rea e l'Associazione Libersind Confesal, rappresentati e difesi dall'Avvocato Luigi Parenti del Forno di Roma, hanno firmato un appello cautelare al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza 98-2021, pubblicata il 12 gennaio 2021 del Tar Lazio di Roma, sezione terza terre, che ha rigettato l'istanza cautelare proposta nell'ambito del ricorso 10.375-2020, ritenendo errata la tesi del giudice di primo grado nel reputare insussistente il Fumus Bonis Iuris, in quanto il contributo di 50 milioni di euro, di cui all'articolo 195 del Decreto Legge 34-2020 sarebbe istituito non a sostegno delle perdite economiche subite dalle emittenti televisive locali, ma a beneficio della collettività ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, della maggiore diffusione possibile delle informazioni istituzionali necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria. La Rea e la Libersind Confsal hanno invece raccolto dati e testimonianze documentate come la maggior parte dei 50 milioni erogati sono finiti per pubblicizzare la lotteria degli scontrini, il Cashback, il Meet Grazie, il Ristoro Italia e altri spot che poco o nulla hanno a che fare con l'emergenza sanitaria Covid-19. Il Presidente della Rea, l'ingegnere Antonio Diomedi, ha ribadito come al Consiglio di Stato che quei 50 milioni dovevano essere impiegati per dare istruzione ai cittadini, in qual modo affrontare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Invece, per altri motivi, almeno 40 milioni sono finite nelle tasche di grossi gruppi televisivi, facendo fallire il rimanente settore. Siamo in fiduciosa attesa della considerazione del Consiglio di Stato affinché venga chiarita la trama di quell'articolo 195 del cosiddetto decreto rilancio del Governo Conte. Intanto, conclude l'ingegnere Diomedi della Rea, ha chiesto l'inchiesta parlamentare a tutti i deputati della Camera e del Senato.